Benvenuti sul mio canale dove di solito racconto le biografie dei personaggi più discussi del momento Oggi invece siamo qui per il senso della vita con Iris Babilonia Avevo proposto questa cosa nella biografia su Paolo Bonolis È stata accolta con grande entusiasmo e quindi non posso esimermi da questa intervista particolare Perché quella del senso della vita, come sicuramente saprete, è un'intervista un po' particolare Quindi iniziamo subito, Iris, ci sei? Accomodati! Sembro in pigiama, ma in realtà non è un pigiama, è un vestito Dal computer vedrete quello che mostrerò io ad Iris Cioè le immagini dalle quali verrà stimolata, insomma, a raccontarci qualcosa Ah, questa è un'immagine? Pensavo fosse tipo uno screensaver Questa schermata, questo screenshot di Final Cut Mi fa pensare alla prima volta che mi sono approcciata al montaggio dei video Allora in realtà la primissima volta è stata quando ero piccolina Avevo tipo forse 12 anni così, 13 anni non di più E ho aperto un canale su YouTube di cui non dirò il nome mai E in questo canale caricavo dei montaggi Che però al tempo facevo con Windows Movie Maker Non so se l'hai mai sentito nominare No Prendevo una canzone e ci montavo sopra delle immagini e il testo Talvolta invece di scrivere il testo scrivo proprio delle lettere a delle persone Indirizzate a delle persone Ma la cosa terribile è che usavo anche le foto di queste persone Che nemmeno sapevano di essere in dei video online Cioè io scrivo delle lettere Mettevo le foto tipo dei miei compagni di scuola per esempio Ragazzi di cui ero innamorata Gli dedicavo queste canzoni e loro completamente ignari Probabilmente sono ignari ancora oggi di essere sparsi in dei video su YouTube Che contano milioni di visualizzazioni Tra l'altro perché vengono visti Da quelli che cercano tipo sai la canzone E vogliono vedere la canzone Magari mettono invece di aprire quella di vivo originale Mettono questa perché al tempo comunque non c'era il problema del copyright Poi vabbè ovviamente non monetizzavo quindi figurati E mi impegnavo un sacco per montare questi video Questo è stato il mio primo approccio con il montaggio Ed è stato anche il mio primo approccio con Perché continuo a guardare là? Le persone pensano che ci sia qualcuno lì Questo è stato il mio primo approccio con il montaggio di video Questo è stato il mio primo approccio anche con YouTube Imbarazzante Quando sono cresciuta Ho acquisito il senso della dignità Ho smesso di realizzare questo tipo di video Però la passione per il montaggio è rimasta Però Windows Movie Maker era molto molto limitato E provavo a scaricare dei programmi gratis Però erano completamente limitati Andiamo avanti No ma non ho finito L'immagine mi fa pensare a bambini che dipingono Ho bambini che dipingono Mi viene in mente Alaska Alaska per chi non lo sapesse È mia figlia Che ho concepito Diciamo nostra Diciamo Con il cui presente Filippo Tra le tante cose che ama fare Alaska C'è il dipingere Questa è una cosa che ha manifestato sin da piccolissima Dipinge proprio sulle tele Talvolta abbiamo un sacco di quadri suoi Che sono bellissimi Mi mortifica anche perché Ho provato a dipingere insieme a lei E le ho rovinato completamente Delle opere d'arte che erano belle Insomma io si sono rovinato un sacco È un piccolo talento Poi un paio di giorni fa Ha incontrato un bimbo creativo come lei E stavano giocando nella loro stanza Ci siamo messi a chiacchierare Con la mamma e il papà per dieci minuti Giusto il tempo di ritrovarci un murales Nella parete della stanzetta Niente ci odierà per sempre secondo me Per averlo coperto La mattina dopo quando Cioè Filippo si è svegliato E ovviamente ha ridipinto la parete Molto velocemente Cos'è? Quando lei è tornata Quando lei è tornata Non so se te l'ho detto Ma quando lei ha visto Che non c'era più il disegno Mi ha detto Mamma perché papà ha fatto abracadabra E ha fatto sparire il disegno Tipo non c'è più il disegno Andiamo avanti Allora ci siamo sposati Ormai nel lontano 3 settembre 2023 Ben quattro giorni fa Che ne pensi? Cos'è per te il matrimonio? Il matrimonio come contratto Lo trovo abbastanza inutile Se ho ben capito Correggetemi se sbaglio L'unica utilità Che comunque era importante per me È che se sto morendo Tu puoi entrare in ospedale Che comunque a tempo di covid Non è manco garantita come cosa Credo che ormai il matrimonio Abbia più un significato simbolico Persino quello civile Ha più un significato sacro Secondo me è più il significato Che noi attribuiamo a questo rito Che è il significato legale Comunque se mettiamo le due cose Su una bilancia Il significato che gli diamo noi È molto più pesante Cioè fondamentalmente tu comunichi A tutti i presenti Che da questo momento in poi Nessun altro si potrà frappore Fra te e me E poi insomma Cioè scolpisci anche Questa ufficializzazione Nella tua memoria Che non è una cosa da sottovalutare Cioè non è una cosa da niente Comunque siamo fatti di momenti Di momenti che ripercorriamo Quando ci guardiamo indietro Sì questo Guarda che bella fede Potrei dare un milione di significati A questa foto La prima cosa che mi viene in mente Però è il primo Il primo logo Del canale Sin da quando ho iniziato a fare I video giornali Perché inizialmente Cioè veramente ancora Oggi no Parlo di Argomenti Di attualità Che non si limitano Per dire all'Italia Ma cerco di spaziare Nel mondo occidentale Perché è quello che Conosco meglio E che quindi Posso comprendere meglio Altrimenti fare i disastri Se parlassi di altri Di altre civiltà Ho usato Come logo All'inizio Il mappomondo Perché è tipo il simbolo Che si riconduce Al Con il cursore All'attività Esatto Sì ho avuto questa sigla Infatti poi Quando ho fatto la sigla Del canale Ho messo il disegno Tipo del mappomondo Però adesso L'ho cambiato Quindi Adesso Il significato Che do A questa immagine È Il meteo Mi fa pensare Al meteo Oh Gesù Oddio Il mio incubo Io ho la fobia Dei mezzi di trasporto Ciao a tutti quelli Che condividono Questa fobia Con me Vi sono vicina Nessuno ci Capisce Siamo persone Profondamente sole E incomprese E soprattutto Viaggiamo molto poco Questa Questa fobia Viene Cioè Strettamente Connessa Alla Mania Alle manie di controllo Che sono Il mio Il mio patema D'animo quotidiano Le manie di controllo Controllo Tutto quello Che non controllo Io Nella mia testa Finisce in tragedia Anche quello Che controllo Io Però Quanto meno Finisce in tragedia In un modo Che ho Preventivato Diciamo E quindi Per esempio Prendo Prendo l'auto Il contachilometri Comunque è sempre Sempre una cosa Però Dici So Nuotare Bene o male Se non vado Nell'Atlantic Nel Pacifico No Non è per questo Non lo so Mi dà un senso Più di stabilità Perché comunque Tipo Anche la terra È sospesa Nel mare Cioè fondamentalmente La terra È una grande nave Ma se per questo Il pianeta Terra È sospeso Al nulla Quindi Cioè se proprio Dobbiamo essere Puntigliosi Mi dà L'aereo 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 fa schifo Per me Potrebbero Potrebbero Cioè piuttosto Che muovermi con l'aereo Io andrei A cavallo Volando Ti spuntano le ali No 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 Io non volo E non ci tengo neanche A raggiungere Questo livello Di evoluzione Per me Cioè L'essere umano Non è fatto per volare Se volevo volare Nascevo mosca Sono un'altra persona Non voglio volare Anche questo Mi mette Non poca ansia Ok Una classe I bei tempi andati Mi dicevano Che La scuola Cioè di godermi Gli anni della scuola Perché sarebbero stati Gli anni migliori Della mia vita Ho quasi 30 anni Ancora oggi Certe volte Mi sveglio nel cuore Della notte Tutta sudata Perché ho appena Sognato Di dover ritornare A scuola A fare L'esame di maturità Cioè penso Che comunque Sia stato Proprio il Il periodo Comunque No Parlando di un periodo Lungo proprio Di una fase No della vita È stata la fase Più brutta Della mia vita Quella della scuola Pensare che Alaska Dovrà passare Questa fase Mi dispiace Troppo per lei Non c'è Niente Della scuola Secondo me Che Che la Che la possa rendere Un'esperienza Veramente bella L'unica cosa Positiva Della scuola È La socialità Ok L'incontro Con altri compagni Io sono stata Fortunata C'è qualcuno Per cui Anche questo aspetto Fa schifo Perché magari Viene preso di mira No dai compagni Viene Bullizzato Dai compagni Ma comunque Anche nella mia fortuna Non era sufficiente Neanche lontanamente Sufficiente A compensare Tutti Tutte le problematiche Che mi comportava L'andare a scuola Beh ci sarà Un ricordo positivo No? A parte Quello che hai detto La socialità Beh le cose che imparavo Poi mi Mi facevano crescere Mi piaceva imparare Alla fine Però dopo che avevo imparato No? Mentre lo stavo facendo Cioè quello era orribile Perché Non so Beh Già Già La situazione cambia Il passaggio Dall'università Cioè dalla scuola All'università È stato Tipo passare Dall'inferno Al purgatorio Capito? Perché Cioè da un posto Senza via Di redenzione In cui tu dici Boh Qua morirò Cioè qua Nel migliore dei casi Scomparirò È un posto in cui Comunque Intanto vedi la fine E poi bene o male Cioè ti puoi aggrappare A qualcosa Per esempio Ai bonazzi Che ci sono All'università Qua ce n'è uno Per esempio Che me lo sono portata A casa Comunque ci tengo A dire una cosa Dovresti confermarla Perché giustamente Chi è Che ci guarda Non è che lo sa Queste immagini Iris Non le ha viste Prima d'ora Vabbè dai si capisce Cioè sono più confusa Che persuasa Non gliel'ho fatta Cioè sono veramente No ma infatti Cioè appena finiamo Ricominciamo da capo E la rifacciamo meglio Perché Non esiste Quindi all'università Per i bonazzi No Ah ok Principalmente Però non solo Eh Anche Perché A differenza Della scuola Intanto scegli tu Il tuo percorso Di studi In linea di massima Quindi già ti vai Ad approcciare Non solo A materie Che ti appassionano Non è tanto Quello Che fa Dell'università Un'esperienza Più bella Ma persone Con interessi Simili ai tuoi E questa E questo è un cambiamento Che proprio Si sente in modo viscerale Perché tu Conosce A scuola Comunque siamo tutti Molto diversi Giovani Ancora confusi Non incerti Sul nostro futuro E su quello che ci piace Con una personalità Ancora in fase Di strutturazione All'università Ci sono i prototipi Cioè tipo A lettere No? Erano tutte persone Simili a noi Completamente schizzate Cioè strane Il Cioè il Non eravamo persone Eravamo personaggi A lettere La persona Più normale Forse era quello Che girava Col cilindro E l'orologio Da taschino Anche all'università Dipende come la vivi Io probabilmente L'ho vissuta bene Perché comunque Avendo vissuto molto male Il percorso della scuola Mi sono sentita libera All'improvviso Svincolata Dalla Dalla pressione Dello studio Quotidiano Soprattutto Cioè gestivo io Quanto studiare Però La mia fortuna Era Non Non avere la pressione In famiglia Di dovermi Laureare Con il massimo Dei voti Soprattutto La pressione Economica Di non dovermi Laureare Necessariamente In tre anni Andiamo avanti Musica dal vivo Questo è Il Pinocchio Cioè perché proprio Non mi è voluto mettere L'immagine del Pinocchio La smetti Con questa Poker Face Questa Immagine Mi rievoca Un altro periodo Molto Turbolento Della Della mia vita In questo caso Della nostra vita Insieme Che è stato un periodo In cui abbiamo Entrambi Lavorato In un Come definirlo Un ristopub Un ristopub Lavoravamo Circa Dodici Quattordici Ore al giorno Di lì a salire Allora È stato un periodo Brutto Pesante Nero Però C'era Qualcosa di bello Che comunque Ricordo Forse ricordiamo Penso Con Con Brio Cioè La musica Dal vivo Non solo Per la musica Dal vivo Ma per il rapporto Che si è creato Poi con Si andava creando Con i musicisti È incredibile Quante Persone Di talento Ci siano A Palermo Cioè Tu guardi Questo buco Di culo Sulla Mappa Sulla Mappa Geografica E Tutto Ti aspetti Meno Che ci siano Così Tanti Artisti Che non C'è tempo In un anno Tipo Per farli esibili Tutti Molti di questi Facevano Tributi Ed erano Ragazzi Eccezionali Una cosa Che mi fa Tanto male Che a distanza Di anni Sono pochissimi Quelli che Hanno continuato A fare musica Cioè La maggior parte Hanno dovuto Abbandonare Questo Non lo sappiamo Comunque Vabbè Di alcuni Lo sappiamo E Mi si è spezzato Il cuore Del vedere Che alcuni Cioè Io mi auguro Che siano felici E che l'abbiano scelto Perché hanno fatto Due conti Hanno detto Ma sì Ma chi me lo fa fare Di stare sveglio La notte Non mi va più Non me la sento più Spero che sia stata Una scelta Però Devo dire Che vedere Che alcuni Hanno deciso Di mettere via La musica E tornare A fare un lavoro Che odiavano Cioè Per me Proprio Non lo so Mi ammazza Sta cosa Mi manca Mi manca Quella casa Tantissimo Questo È Invece Forse Il periodo Più bello Cioè La fase È più bella È più bella Certo Non sapevamo Non sapevamo Cosa sarebbe Diventato Però Noi eravamo Eravamo felici Ci sono arrivata Ci sarà sicuro Qualcuno che l'ha visto E che ora sta guardando Questo video Quindi Casomai Ti sbagli Tu non l'hai mai visto Cioè è stato frutto Della tua Immaginazione L'entusiasmo Era tale Per questa cosa Che Addirittura Ci siamo Ci siamo Comprati entrambi Le magliette Ho scritto YouTube Capito Perché Cioè come Staff Scusate Spalle Noi già Eravamo Nello stampo Di YouTube Capito Con un video Tra l'altro Notare che c'era Anche Filippo Perché lui Subito Supporter Di questa Lui è sempre Stato il mio Primo fan Cioè Qualunque cosa Facevo Lui tipo Vedeva un sacco Di potenziale Sì Grande Cioè tipo Mi incoraggiava in tutto E tra l'altro Inizia Perché dicevo Mi ricollego qui a Final Cut Perché Vi dicevo Che non avevo più modo Di montare i video Perché Windows Movie Maker Era troppo limitato Tra l'altro Non riuscivo neanche più A trovarlo Windows Movie Maker Non Non lo so se non esiste Per questo ho detto Non so nemmeno se esiste ancora Perché sull'Lenovo Io avevo il Lenovo Non lo trovavo Cioè Nemmeno quello avevo Quindi che ho fatto Ho scroccato il suo computer Perché lui aveva Il MacBook Air Ah sì E c'era iMovie Nel MacBook Air E quindi Quando ho registrato Questo video I tagli Li ho fatti sul suo computer Ho scoperto iMovie Mizzabomba C'è l'altro Windows Movie Maker Che tipo Dovevi fare un taglio Dovevi stare Tipo Cinque minuti buoni No Ad aspettare Che si caricasse E quindi ho iniziato A usare iMovie Poi Man mano che il canale È ingranato Lui mi faceva Mi regalava Tutta la strumentazione Cioè lui tipo Si toglieva i soldi Dalla tasca Si svuotava le tasche Per regalarmi La strumentazione Fatto bene Una cosa che E mi proibiva Io non so se questo Si può raccontare Poi decidi Se Se tagliarlo Perché Cioè tu mi proibivi Di lavorare Tu mi proibivi Di lavorare Non è vero Io ti proibivo Io volevo andare Io volevo fare la cameriera Poi vabbè Poi vabbè Ho smesso di fare altre cose Di rinunciare No di lavorare Di rinunciare E ti arrabbiavi Si arrabbiava Quando per esempio Facevo l'hostess Certe volte Più Si arrabbiava Quando lavoravo E se proponevo Cioè se mi mettevo A cercare lavoro Si arrabbiava E io una volta Ne ho parlato Con tua madre Di questa cosa Cioè io sono andata Da sua madre E gli ho detto Vedi che tuo figlio È un gran maschilista Perché Perché non vuole Che io lavori E lei mi ha detto Lui non lo Mi viene da piangere Taglia questa scena Non so neanche cosa Ti avevo detto Quindi non posso Non posso piangere Anch'io Sicuramente la taglierò Stai tranquilla E serena Lei mi ha detto Guarda che non lo fa Perché non vuole Che tu lavori Perché sei una donna E vuole mantenerti Lo fa perché vuole Che tu faccia un lavoro Che ti piace E ti vuole dare La possibilità Che lui non ha avuto E questa cosa E che Alla fine Ho avuto Grazie a te Allora io Tipo non le ho creduto Tantissimo Però in realtà Poi ho Cioè in realtà Le ho creduto Perché ho unito i puntini Ci erano delle cose Che certe volte Lui mi aveva detto E quindi Sono diventata Molto determinata In quel momento In questa cosa E in questo progetto Perché Che la mia motivazione È diventata Riuscire Per poter dare A lui La possibilità Allora devi fare piangere Ti lo metti E tutto questo È stato possibile Grazie a voi Che ci seguite Ci volete bene Soprattutto Pensate Quello che avete fatto Quando avete cliccato Il tasto Iscriviti Nel mio canale Quando facevo video cringe Cioè Voi pensavate Capito Di star Boh Sprecando te Cioè così Non lo so Mi spuntava Qualche video cringe Ogni tanto Da aggiungere Alla lista Per perdere Dieci minuti E invece Andiamo avanti Dai Oh Napoli Il nostro primo viaggio Ovviamente in nave Cioè Tipo Noi Praticamente Ormai le mete Raggiungibili in nave Le abbiamo fatte tutte Ci rimane Non so Cioè la Circumnavigare L'Africa Questo è stato il nostro primo viaggio insieme La nostra prima No la nostra prima vacanza insieme Però il nostro primo viaggio fuori dalla Sicilia Ok E questo è stato il secondo Ovvero Quando siamo andati ad Antibet Ovviamente In macchina Cioè Prima la nave Prima siamo arrivati a Genova Al porto di Genova E poi l'abbiamo fatta in macchina E sia Allora Potete dirmi quello che volete Che viaggiare in aereo Comunque è più comodo Perché è più veloce E arrivi subito Ehm È il mezzo più sicuro al mondo Tutto quello che volete Però Quanto è bello Attraversare Le città Cioè Proprio uscire dall'Italia Capito Gradualmente Con la macchina Cambia tantissimo il paesaggio Cioè Tu passi Non lo so Dal Dalla montagna Al prato E però E poi si vede Cioè proprio si percepisce Il passaggio Da una città all'altra Non lo so Non lo so spiegare Perché non Bello Sì Non lo so Però si vede È bello È emozionante Ragazzi È sottovalutato Vendono pure Le piastrelle al pistà Se vi trovate in Sicilia Ne avete la possibilità Non è facile Averne la possibilità Però Se ne avete la possibilità Andate a Bronte Cioè è pazzesco Ragazzi Cioè dovete entrare a Bronte Dovete mangiare Tutto il giorno Come porci Pistacchi Cose a base di pistacchio Perché tu entri al ristorante E ti fanno Le bruschette Al pistacchio La pasta La pasta al pistacchio Abbiamo bevuto Il caffè Al pistacchio Col cucchiaino Fatto di pistacchio E non ce ne vergognavo Che si mangiava Cioè si mangiava Quello del cucchiaino È pazzesco Questa immagine Mi fa pensare Alla fine del covid Perché Tutta la gravidanza Di Di Alaska E tutti i primi mesi Della vita di Alaska Noi li abbiamo vissuti In quarantena Più o meno C'erano momenti In cui diciamo Con un po' di ottimismo Si metteva il naso fuori Con la mascherina Però Non abbiamo potuto Battezzare Alaska Fino Alla La veneranda età Di Quanto c'aveva? Ma che aveva? Un anno e mezzo Insomma Lo so Di solito si battezzano i bambini Tipo A due mesi No Tradizionalmente Noi non l'abbiamo fatto Non tanto Per scelta Ma perché Non potevamo Le nostre famiglie No Avevano Soprattutto le nostre famiglie Avevano questa gioia No? Di riunirci tutti quanti Per questo Primo Rito Di Alaska E Non era una cosa Che si poteva fare Cioè Non era nemmeno una cosa Che si poteva pensare Che tu dici Lo facciamo Non lo facciamo Quale valore diamo A questa cosa Non era una scelta Cioè Non lo potevamo fare E avevamo anche paura Cioè Se anche l'avessimo voluto fare Avevamo troppa paura Io ipocondriaca Lui Uguale E quindi Credo che questo Sia stato Sia stata proprio La prima festa Che ci ha coinvolti Anche se ancora Un po' di caldo Tra l'altro Queste diciamo Bomboniere Sono omogeneizzati Di Alaska Il barattoli Degli omogeneizzati Di Alaska E li ha fatti Tua madre E li ha decorati Così a mano Mia madre Uno per uno Bravissima E oggi Proprio protagonista Ecco Abbiamo finito Questa è l'immagine Che ho scelto Diciamo Per ultima Quella della Domanda E quindi Cos'è Qual è Per Iris Babilonia Il senso Della vita L'abbiamo capito Penso abbastanza bene Per me il senso Della vita È Accumulare Storie Poco fa Dicevo Siamo fatti Di momenti E ci credo Veramente In questa cosa Quello che Mi Può Far sentire Di aver Vissuto Una vita Con un senso Che abbia avuto Un senso È Aver Accumulato Quante più Storie Possibili Che mi abbiano Insegnato Qualcosa Mi abbiano fatto Vivere qualcosa Di nuovo Ogni volta E soprattutto In linea Generale Quello di Aver Raccontato A questo Mondo Una Storia Di me Che sia Degna Di essere Di essere Stata al mondo Cioè nel senso Vorrei Non 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 lasciare Puzza Mi hai ricordato Mi hai ricordato Molto Un discorso Che fece La Buonanima Del tuo Diciamo Maestro Intellettuale Umberto Eco Sì Le storie Lui dice Sempre Che è il mio Ma Cioè Non lo dico Io Lo dice lui Lo dico io E ne sono convinto E fiero Diceva questa cosa E aggiungeva Che Tutte le nostre storie Le storie che possiamo Vivere Raccontare Se a queste Se a queste Aggiungi Tutte le storie Che hanno raccontato Altri nei libri No Chi è che legge tanto Tante altre storie Di altri No E quindi puoi Vivere Tante vite E infatti è per questo Che mi piace Tantissimo Cioè è per questo Che il mio canale Si È incentrato Su storie Cerco In qualche modo Tipo di vivere Più a lungo E di più Attraverso le storie Degli altri Quando tu Ti medesimi Nella storia Di qualcun altro Che può essere Un personaggio inventato Perché la stia leggendo In un libro O può essere Una storia Realmente accaduta Di qualcuno No Di cui in questo momento Si parla Ma se tu entri Proprio nella sua mente Nella sua storia Cerchi di provare Quello che vive lui Tu nella tua giornata Stai vivendo La tua vita E la sua Cioè tu stai vivendo La tua storia Poi per i fatti tuoi Che magari Non lo so In quel momento È anche abbastanza inutile Nella grande narrazione Dell'universo E stai vivendo Poi la sua storia Quindi Cioè in qualche modo Tu hai la possibilità No Di aggiungere Appunto una storia Alla tua collezione Di momenti vissuti Bello Infatti mi ha fatto venire In mente Quando certe volte Prendendomi in giro Mi dici che Ho secoli Tipo di Di vita Cioè vivo da secoli Sì lui in realtà Ha 200 anni Non ne ha Tipo i vampiri E cose del genere Ok perché Io c'ero Io c'ero Quando Quando è stata scoperta L'America Quando è stata scoperta E questo video è finito qui Spero vi sia piaciuto Il senso della vita Speriamo che con il montaggio Diventa un pochettino Più grazioso Perché secondo me Ha fatto un po' Ci vediamo prestissimo Con una nuova biografia Questa maglietta è di pamphling E con un nuovo senso della vita Dai fallo a qualcun altro Chi se lo accolla Chissà 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 Ne si e ne no Chissà Vedremo Magari ci sarà qualcuno Qualche ospite in futuro Non lo possiamo sapere Questa maglietta è di pamphling Se volete sostenere il canale Potete acquistare su pamphling E con il codice biografo Vi prendete pure un paio di calze gratis E basta A voi la linea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti